Se avete bisogno di un'aggiunta di soldi sul vostro account di GTA Online per PS4 o PS5 potete contattare la pagina in descrizione che c'è sia su Instagram che su Facebook Contattatelo, è veramente un ragazzo bravissimo e ci sa fare molto Bella a tutti ragazzi, io sono Adria e benvenuti in questo nuovissimo video dell'aggiornamento settimanale del giovedì come ogni giovedì qui sul mio canale e mi raccomando come prima cosa lasciate subito un bellissimo like veramente importante cerchiamo di arrivare e superare i 300 like per questo video ve ne sarei veramente molto grato, è l'unica cosa che vi chiedo in cambio di questi video e inoltre mi raccomando se ancora non siete iscritti e siete nuovi sul canale andate qua sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così non vi perdete i prossimi video, soprattutto i video dell'aggiornamento settimanale se volete sapere di settimana in settimana cosa esce appunto nell'aggiornamento settimanale partiamo dal veicolo nel podio che come vedete era un attimo qua in focus che sarebbe la Spectre la Spectre secondo me è veramente un'ottima auto, a me piace moltissimo più che altro perché è una delle macchine che mi piace a livello di sound e anche guidabilità non è il massimo, sia chiaro, questo comunque è una macchina non super ma sportiva però è veramente un'ottima auto che a me piace moltissimo quindi direi proviamo subito a vincerla e mi raccomando fatemi sapere come sempre qua sotto nei commenti se siete riusciti a vincere anche voi la macchina questa settimana e soprattutto se vi piace o meno questa macchina intanto qui giriamo la ruota, vediamo se ci esce dopo anni e anni di sfortuna di nuovo una bella macchina, vediamo subito e ovviamente incrociamo le dita, mi raccomando incrociate anche voi ma la vedo lontana la macchina e prendiamo 40.000 dollari ai ai ai, quasi il jackpot il jackpot è 50.000 mi sa sì, 40.000 dollari, vabbè tanta roba in realtà non mi servono soldi però 40.000 dollari top raga e ritiriamo anche il bonus giornaliero fatemi sapere tra l'altro cosa vi è uscito a voi nella ruota questa settimana alla prima botta, fatemi sapere se avete trovato l'auto oppure se avete trovato altre cose spero non vestiti perché veramente è una sfiga clamorosa bene, questo per quanto riguarda il veicolo ora andiamo a vedere subito le cose che sono in offerta questa settimana partendo dal Legendary Motorsport per quanto riguarda il Legendary Motorsport vediamo subito cosa abbiamo in offerta e mi sa che questa è una settimana con poche offerte già ve lo preannuncio quindi non è una buona settimana ma l'auto sul podio non è male intanto qui abbiamo la prima auto ossia la Vapid Clique che passa da 900.000 dollari a 545.000 dollari a livello di offerta è una buona offerta la macchina onestamente non l'ho provata quindi non vi saprei dire se è una macchina buona o meno quindi provatela, vedete se vi piace insomma se c'è qualcuno che la conosce fatecelo sapere nei commenti poi la lampa di casco che è una macchina diciamo vintage che passa da 680.000 a 408.000 dollari e per quanto riguarda le offerte su Legendary Motorsport dovrebbero essere queste sì infatti sono finite settimana veramente magra raga cioè ci sono poche soddisfazioni questa settimana vediamo sul South and San Andreas cosa abbiamo abbiamo il Vapid Slam Track cioè lo Slam Track questo furgone insomma che passa da 1.300.000 a 900.000 dollari onestamente niente di che non è un veicolo per il quale io spenderei un milione di dollari in offerta adesso c'è 900.000 dollari quindi secondo me non vale la pena però ripeto ognuno ha il suo modo di pensare e se a voi piace prendetevelo adesso che è in offerta insomma sapete come la penso meglio prendere una cosa quando sta in offerta rispetto a pagarla poi prezzo pieno poi abbiamo l'Albani Primo che passa da 9.000 dollari attenzione a 6.300 dollari questa è una grandissima offerta ovviamente sono sarcastico e basta queste sono le offerte e visto che la Primo sta su Benny sono sicuro che su Benny abbiamo delle offerte ormai la Rockstar ha deciso di fare un sacco di offerte su Benny a quanto pare le stanno facendo proprio a gogo vediamo sì infatti ecco abbiamo il Moon Beam che passa da 32.500 a 22.750 quindi 10.000 di sconto e onestamente a me queste due auto non piacciono quindi non le acquisterò e poi comunque per quanto riguarda uno sconto di questo tipo alla fine non c'è tutta questa grande differenza nel senso se vi piace prendetela altrimenti no siccome è tanto che non esce niente sul Warstock voglio proprio controllare perché effettivamente non può essere più di un mese che non esce niente sul Warstock è veramente criminale questa cosa cioè almeno un'offerta in tutto il Warstock la potrebbero mettere in una settimana niente c'è una cosa incredibile né Oppressor né niente mamma mia la Rockstar non so cosa sta facendo ultimamente sta andando un po' in stallo il gioco non so voi ma per quanto riguarda me stanno un po' tra virgolette facendo morire il gioco a quanto pare hanno deciso di non aggiornare più o lo fanno perché magari stanno lavorando a qualcosa e deve uscire qualcosa di grande quindi magari ci mettono un po' di hype negativo tra virgolette così e poi faranno tipo boom super aggiornamento oppure su PS5 sarà una figata il gioco ma me lo auguro ma onestamente non credo sul Doctis non abbiamo niente io comunque controllo sempre perché alla fine non mi costa nulla ci sono magari qualche offertina ma niente quindi a livello di offerte qua male male questa settimana e vediamo a livello di business cosa abbiamo in offerta allora abbiamo al 40% di sconto i garage quindi come vedete questo qua per esempio passa da 25.000 a 15.000 onestamente parlando io non vi consiglio di acquistare un garage a meno che non siete proprio all'inizio del gioco in questo caso compratevi questo che è quello più economico compratevelo ok ma per chi ha soldi in realtà non vi consiglio il garage perché vi occupa lo slot dell'appartamento quindi anche se prendete questo garage qui da 10 posti cioè piuttosto che spendere tipo 63.000 per un semplice garage da 10 posti che onestamente è anche fuori mano compratevi un appartamento tanto l'appartamento costa poco non è un costo eccessivo a partire da 200.000 dollari quindi alla fine per 100.000 dollari di differenza vi prendete sia l'appartamento che il garage almeno non sprecate lo slot insomma secondo me conviene così poi ripeto ognuno fa come preferisce bene per quanto riguarda le offerte in realtà sono queste non ci sono grandi offerte questa settimana purtroppo come vedete l'offerta tra virgolette dei business barra proprietà è solo quella del garage quindi male male e come vedete lì a sinistra soldi rp doppi sulle missioni di Gerald quindi tutte le missioni di Gerald sono con soldi rp doppi per avviare queste modalità basta che andate su online attività avvia attività andate su create da rockstar e poi andate su missioni nella sezione missioni trovate le missioni con soldi rp doppi le dovete cercare un po' non vi capiteranno subito che sarebbero poi quelle di Gerald che ripeto hanno soldi ad rp eccole qua per esempio questa per esempio questa furto a kumash che ha soldi ad rp doppi che è una missione di Gerald queste qui hanno tutte soldi ad rp doppi quindi o le avviate da qua oppure accettate uno degli inviti che vi arriva sul telefono inoltre cosa che io personalmente vi consiglio anziché fare quelle che si pagano bene ma non così tanto vi consiglio di fare le modalità competizione perché almeno su questo abbiamo soldi rp tripli su una modalità competizione che vi fa guadagnare veramente tanto e tra l'altro sono anche attività molto divertenti queste io onestamente ve le consiglio veramente tantissimo questa settimana è il top per fare i soldi questa attività perché vi divertite vi fate un sacco di soldi e un sacco di rp le missioni si chiamano sumo non le sumo remix ma solo le sumo che comunque ce ne sono parecchie e come vedete hanno tutte soldi ed rp tripli quindi onestamente io vi consiglio di fare queste attività questa settimana per fare soldi che vi fanno guadagnare veramente un sacco e per quanto riguarda anche le attività con soldi rp doppi sono queste quindi abbiamo le sumo nelle modalità competizioni e le missioni di gerald nelle missioni ma prima di terminare il video vi faccio vedere anche l'auto che si trova nell'auto raduno di ls sul podio e vi faccio vedere anche come si può vincere questa settimana ed eccoci qua per quanto riguarda l'auto qui sul podio è la vapid dominator asp che potete vincere questa settimana e prima di dirvi come si può vincere ci tenevo soltanto a dirvi che questa settimana il video è uscito molto più tardi più che altro perché l'aggiornamento è uscito tre ore dopo rispetto a quello che sarebbe dovuto uscire quindi sarebbe dovuto uscire alle dieci e mezza all'incirca è uscito invece verso l'una e mezza quindi rockstar sta facendo un po' di casini ma vabbè diciamo che è andata così per vincere il veicolo andiamo su autoraduno DLS andiamo su sfida del veicolo del trofeo e come vedete dobbiamo posizionarci tra i primi tre in sei gare questa onestamente è molto semplice sei gare ovviamente dell'autoraduno DLS non sono di fila e non sono in giorni diversi quindi le potete fare tutte in un giorno volendo e basta che le fate con tre vostri amici e automaticamente avete fatto siete sempre tra i primi tre per forza quindi fate così vincete l'auto che alla fine costa più o meno un milione e mezzo all'incirca questa macchina e onestamente ne vale la pena prenderla quindi raga mi raccomando lasciate like se ancora non l'avete fatto condividete il video per far vedere a tutti che è uscito l'aggiornamento settimanale noi ci vediamo nel prossimo video mi raccomando non mancate da Adri è tutto un salutone bella ciao ciao Grazie a tutti